Dare spazio e voce ai giovani musicisti e allo stesso tempo offrire loro un'occasione per emergere nel panorama musicale nazionale. E' questo l'obiettivo del premio Mimmo Bucci Festival Nazionale della Musica Emergente, giunto alla sua tredicesima edizione presentata a Palazzo di Città Bari, la cui serata conclusiva si terrà il 4 febbraio prossimo alle ore 20 al Teatro Petruzzelli. Noi non è territoriale, in effetti anche stavolta avremo degli ospiti che arrivano addirittura da Udine, un duo che arriva da Udine, molti ovviamente locali. C'è stata una bella selezione per arrivare a sei concorrenti finali. Abbiamo come ospite l'eccellenza secondo me musicomica pugliese che è la Rimbamband, un'eccellenza di un livello veramente stratosferico. L'iniziativa è nata per ricordare Mimmo Bucci, frontman del gruppo La Combricola di Vasco, travolto e ucciso da una moto pirata sul lungomare di Bari la notte del 15 maggio 2007. In che vivrò e se Dio mi dà la forza lo faremo, perché lui lo vuole. Me lo fa capire in tanti modi, quando le cose sembrano che si ingarbugliano, il giorno dopo già si quietano le acque e va tutto bene. Oltre alla musica di Vasco, che Mimmo spaziava in tutti i campi di musica, non solo quella di Vasco, e aveva un suo progetto pure, le sue canzoni che sono rimaste lì. Non arrendetevi mai, non arrendetevi mai.